Noi abbiamo, fino adesso, teoricamente, idealmente, un leader che è se stesso, e già la gente si rilassa, no? E lui è vero. Io non so se, io vedevo, adesso non la guardo più, ma vedevo X Factor. E c'era Elio delle storie tese, come giudice, no? E mi colpì molto che c'erano cantanti che erano bravissimi, tecnicamente, e lui diceva, sei molto bravo, sei entonato, eccetera, e gli diceva, ma non sei credibile. Usava questa espressione, non sei credibile. Che le stava dicendo? Che era brava, ma non era lui. Nell'arte, io non me ne accorgevo, ma lui, no? Ossia, non era autentico, non trasmetteva attraverso il canto quella che lui veramente imitava un altro. Quindi abbiamo questo che è autentico, è uno che la salunga sulle cose concrete e ci ha messo degli obiettivi difficili ma raggiungibili e ci mette degli obiettivi parziali che ci permette di avere feedback positivi. Quindi, già qua siamo in carrozza, secondo me. Se già un leader a queste tre, già siamo messi molto bene. C'è una quarta che, secondo me, può completare ulteriormente, che è quella di avere fiducia. E l'avere fiducia è un parente stretto di essere ottimista. È difficile, no? Noi vogliamo guidare le persone. Va bene che abbiamo le prime tre, siamo autentici, la sappiamo lunga, mettiamo degli obiettivi, però in quell'essere autentici noi siamo pessimisti. E diciamo, io sono pessimista in natura, quindi mi hanno detto che devo essere autentico e vado e dico, e sono pessimista. Però voglio guidare la gente alla vittoria. E insomma, non funziona. Come faccio? Allora, va bene essere autentico, però qualcosina, magari, della nostra autenticità, la lasciamo un po' lì. Perché se vogliamo guidare agli altri, dobbiamo essere ottimisti. Essere ottimista non significa pensare che va tutto bene. Significa vedere il bicchiere mezzo pieno, per dirlo in parole semplici. Se uno vede sempre il bicchiere mezzo vuoto, che due marron, direbbero da qualche parte. Però dice, no, ma andiamo adesso. Eh sì, però sempre mezzo vuoto. Non c'è una volta che la veda mezzo pieno. Né sulla situazione, né sulle persone. Bisogna essere ottimisti. E siamo ottimisti in che cosa? Perché abbiamo fiducia. E in che cosa abbiamo fiducia? Perché bisogna avere fiducia. In che cosa? Abbiamo fiducia che è possibile cambiare. Grazie a te. Grazie a tutti.